Tipo qua, dove andresti per trovare gente? Ah, io a Moli, andiamo a Moli. Vai. Due, tre team per ora. L'arma sul tetto ce la prende il tipo? Non c'è, non c'è. Ho già entrato uno sotto, vado a prendere la cassa sul retro io. C'è uno sotto. Ho fatto l'altro. Io ho un'altra qua. Mi sto curando, mi dà un secondo. Lo stai riusciando. Che culo che hai? Arriva un altro da dietro in tutto bianco. Ho finito tutto. Ho finito tutte le munizioni, ho finito. Allora, sei morto. Dimmi che tu ho. Ho zero munizioni, zero munizioni. Eh, brother, però se me lo blocchi... Eh, sì, mi devo parare io, cioè. Chiedi. Vuoi mini pure? No, no, vabbè, faccio... Sì, si, 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 bida allora. Tieni, tieni. Ma manca gente comunque all'appello, eh. No, no, ti ho detto due team e... Un pump. Tieni, prenditelo. Forse ho tre team, vuol dire che uno ha bailato allora. Eh, ma non lo prendi il pump, perché tanto è verde. Un po' tu ce l'asso a niente. Vabbè, però prendilo. È sempre un po' impaticente, scusami. Rifiuto l'offerta e vado avanti. Ok. Come siamo lontanissimi. Dove? Oh, sta buildando sopra l'itella. Vuoi delle rondelle? Sì. Ne ho tre. Oh, ma che palle quando fanno così. Uno è nel cespuglio. Ah, no, ma sta là, ma sta là, ma sta là e batto. Uno è nel cespuglio davanti a te. Sì, sì. Da quelle sta, fa le art. Presa. 35. Precato 35. Guarda. L'altro? Da te. Oh, era one shot. Cioè, ti puoi fare uno scar qui. E ti puoi fare uno spas. Soprattutto. Ma mi ha shotato. Ricarico, ci sono. Oh, un po' pegora. Perché? Sono ancora sopra. Beh, è uno. Non lo so. Non lo so. Non lo so. 35. 35. Rotta. È bianco, quella. Non lo so. Non lo so. No, ma che cazzo stai facendo? Fatto, fatto. Un quarto. Mi dirò un mini. Ah, ok. Mi è entrato un flick devastante, Vincenzo. Uno. Uno qui dietro. 67. Abbiamo. 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 Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Abbiamo fatto. Marta. Assento, hanno l'arco con il Cilviario. un altro dietro di te 32 32 il blu 32 sono tirando i pesci puzzolenti per ha fatto il volo dell'anno che mi sono chiuso ascesa arriva l'altro sopra no mamma mia stavo volando di ciò c'è il compagno c'è un altro team che ci sta udando vincendo già io non li sento io aspetta sarà da qua ma tu li ha addosso un ecco da me fatto uno con lui quando c'è un team che ci sta udando nella tempesta sicuro 35 35 52 35 52 ancora di hs toccato 132 guarda bravissimo qui c'è questa c'è no no c'ho lo spasso sono un pochino a pecula comunque vincenzo stavo bellissimo perché non ho capito chi era chi nella tempesta che non si vedeva un cazzo e ho sparato fatteggio ma io ho visto quello che proprio ti è sceso nel box è scompatto io ho saltato sì 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 io ho saltato e ho messo la scala subito ancora in chat che mi dicono bower metti la performance mod funziona bene e poi non vedo la storm quando sono in endgame prendo il cazzo ancora più grande di quello che prendo solitamente sì perché in arena va bene perché tanto si cazzo dell'esterno cioè non la vedo quasi mai in cassa un pochino oh dietro di me dietro di me ho sentito esatto ho sentito cosa in acqua uno però è uno solo sta qua sta uno là ma mi sta guardando non so dove sia finita c'è davanti dopo la collina 35 3 lutto 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 questo poverino gli ha preso un infarto no quelli salgono lì sopra si tengono la collina con il vantaggio uno solo sta con l'archi in mano oh no c'è l'amico dietro l'ha preso eh e basta come ce l'ho addosso si è salito si si è salito perché mi stavo già lontano in casa no what si ti stanno spammando brateri oppure ci facciano cadere tutto questo eh se tu vuoi sei un po' pigio questo è sceso l'amico lo sto tenendo bloccato io vado a box fai darlo no che palla ha fatto l'amico mi sa che sia morto il tuo eh eh no no l'ho ucciso io ho un addosso arriva arriva mi dirà un 50 com'è la situa da te tranquilla lui dov'è è morto merda la zona fratello ci abbiamo ce la faccio la faccio pure i medici abbiamo gente parallelando ho pochissimi mazzi tipo 400 totale parallelo a sinistra è via a via no lo è stato no merda brave double d'arito per me per me Oddio, perché ho pochissimi mazzi Ti spara ogni tanto C'è uno che ti mira da dietro E tu c'è spuglio con l'arco No te, no te, no te Fatto uno C'è il compagno che mi spara C'è uno noccato qua davanti Oh no no, una rana Vado in mezzo allo schifo Questo è bianchissimo Mi devo prendere i mazzi Ti riesci a salire, io no Ma stanno sparando a te No, mi stanno distruggendo Mi sono chiuso sotto 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 E mi sto curando con calma Ho 380 mazzi Faccio pure il medikit E ci sono di nuovo per uscire fuori Mi ha fatto di escire se vuoi sapere Bellissima danna Le granate? Cosa? Cosa? Ma siamo in arena L'ho boxato, l'ho boxato Vieni, vieni, vieni Aspetta che l'ho caricato l'altro Vado a boxare l'altro Vado a fai dare l'altro io Ok Io ho sta gamba alzata Che mi griffa un po' Bruder, questo Ti viene, ti viene mio, ti viene mio Dietro, dietro Buxato Fatto Bruder, che cosa c'hanno tirato Che esplodeva tutto Chat, ma le granate come cazzo si prendono No, no, quell'era proprio il rumore di granate Sì, sì, quell'era il rumore delle granate classiche proprio Sì, sì, esatto Che cazzo si prendono le granate Bruderone, l'ho boxato Mi sono sentito troppo bravo Davanti a me a destra Tento da dietro Ci sparano con l'arco Eh, non c'hanno C'è uno qua C'è uno qua, non ne facciamo queste 93, è bianca Cazzo, l'hai bloccato Fatto Come ha fatto a farse lo ho 40 Oh, bella partita Oh mio Dio Io però ho droppato 14 kill Mi sento quasi Cioè, di avere una mano